Ciao amici sono Lox, un veloce avviso ai naviganti incastonato in questo recupero dall'influenza che ho avuto nei giorni scorsi, il classico weekend di trasferte, sto rimanendo indietro con i contenuti che purtroppo della gran parte erano nella giornata di sabato, non preoccupatevi recuperiamo tutto, nei prossimi giorni video di commento sui vari avvenimenti sportivi del weekend, grazie a chi mi ha già scritto, grazie di cuore come sempre, iscrivetevi al canale, ne parliamo nei prossimi giorni, ciao a tutti, un bacio da Lox, ciao!